Ciao, oggi andiamo in Veneto! Oggi, cominciamo la nostra video ricerca sul Veneto. Io non posso darti in questo video tutte le informazioni, ma un punto di partenza. In descrizione puoi scaricare una scheda che ho preparato apposta per prendere appunti durante questo video, ma anche per essere implementata con altre informazioni che troverai in altre schede nel tuo libro di testo, ma se vuoi anche nei link che troverai sempre in descrizione con altri video, con altri siti per continuare a ricercare sempre più informazioni e metterle insieme nella tua ricerca. Oggi parliamo del Veneto, questa regione che prende proprio il nome dai Veneti, un antico popolo che viveva in questa regione, in queste zone. Allora andiamo a vedere nella nostra cartina dove si trova il Veneto. Sai dirmi dove si trova così a occhio? Provaci un attimo. Eccolo qua! E adesso andiamo a vedere i confini. Allora, il Veneto vediamo subito che a sud confina con l'Emilia Romagna, a ovest confina con Lombardia e Trentino Alto Adige. Il confine con la Lombardia è più a sud e a nord il confine con il Trentino Alto Adige. Poi nella parte nord confina con una parte di Austria, quindi con un altro stato. A nord est invece con il Friuli Venezia Giulia, mentre la parte est sud est confina con il mare Adriatico, quindi è bagnata dal mare Adriatico. Le province abbiamo Venezia, che è anche capoluogo di regione, Belluno, Padova, Ruvigo, Treviso, Verona e Vicenza. Parliamo del territorio, quindi in percentuali, che vuol dire dividiamo il territorio in cento parti uguali distribuendo montagna, collina e pianura. Questo ci aiuta un po' a vedere la formazione del territorio subito. Qui vediamo che abbiamo un 29 per cento di montagna, un 15 per cento di collina, un 56 per cento di pianura. Questo è un dato importante. Avendo già studiato in generale la montagna, la collina e la pianura, adesso da questo dato già puoi immaginarti le attività economiche, il clima che potresti trovare. Importante è anche il dato della densità di popolazione, cioè il rapporto tra estensione del territorio e numero di abitanti. Il Veneto è molto abitato e la densità è molto alta. Nella classifica italiana è al quinto posto, con 265 abitanti per chilometro quadrato. Passando all'aspetto fisico della regione, guardiamo nella nostra cartina. Dalla cartina lo vediamo subito quanto sia prevalente il paesaggio di pianura della pianura Veneta. Abbiamo poi la parte vicino al mare Adriatico con molti fiumi, con la laguna, il delta del Po e questa fascia montana che sale fino all'Austria e una striscia collinare stretta tra le montagne e la pianura. Allora andiamo nel nostro quadernino di geografia a vedere un po'. Nell'orografia, cioè nello studio dei rilievi, troviamo le Alpi Carniche e le Dolomiti, ma anche monti come i Monti Lessini o le Prealpi Venete. Ricordiamo la Marmolada, il Monte Civetta e le Tre Cime di Lavaledo, ma ci sono anche tantissimi altri monti. Poi tra le colline abbiamo visto quella fascia stretta tra le montagne e pianure, ma dobbiamo ricordare anche i Colli Euganei e i Monti Iberici. Poi tra le pianure sicuramente dobbiamo parlare della pianura Veneta che occupa la maggior parte del Veneto, ma a sud si trova anche il Polesine, una zona in tempo paludosa che si trova tra l'Adige e il Po. Ho già detto qualche nome, troviamo quindi i due fiumi più grandi d'Italia, Aldige e Po, ma anche il Brenta, il Piave, il Tagliamento. Il Po, lo abbiamo già detto, sfocia a delta, proprio nel mare Adriatico. Mare che ha una costa bassa e sabbiosa per la gran parte, ma una parte lagunare, famosa la laguna di Venezia. Nel Veneto c'è anche la parte orientale del lago di Garda, il lago più grande d'Italia. Il clima quindi è molto vario, dipende dalla diversità del territorio. Alpino in montagna, mite sulle coste, continentale in pianura. Per quanto riguarda le attività economiche, in agricoltura è coltivato il mais, il frumento, il tabacco, barbabietole da zucchero, frutta, ad esempio i kiwi, oppure vite, olivo, producono molti vini pregiati e distillati e allevamento di bovini e suini, ma anche la pesca, l'acquacultura nella zona lagunare. Grandi industrie ci sono, ci sono industrie chimiche, petrolchimiche, cantieri navali e molto è praticato anche l'artigianato, famosissimo l'artigianato del vetro, ma anche della ceramica o del legno. Anche il turismo è sviluppatissimo, sia per quanto riguarda quello alpino, ma anche balneare e culturale. Ci sono molte città bellissime, ricche d'arte di cultura da poter visitare. Ovviamente quando si fa una ricerca, si studia qualcosa, bisogna sempre tener conto anche delle altre discipline. Non si può parlare della Lombardia solo dal punto di vista geografico, bisogna sapere anche collegare alle altre discipline. Per quanto riguarda questa storia ho pensato di cercare un aneddoto, una curiosità storica da aggiungere a questa ricerca. Ad esempio, quando i popoli germanici invasero l'impero romano, gli abitanti pensarono di rifugiarsi e vivere in zone lagunari, per difendersi meglio, chiaramente. E così nacque la meravigliosa Venezia. Vedi anche come la geografia e il territorio aiuta a sviluppare delle civiltà, delle città. Per quanto riguarda scienze, invece, ho cercato uno scienziato o una scienziata per ogni regione, dovendo fare una scelta, non potendo prendere tutti. Per quanto riguarda il Veneto, ho pensato a Carlo Rovelli, che è un fisico italiano, si occupa anche di divulgazione scientifica, cioè di far conoscere le nuove scoperte alle persone che non sono nell'ambito. Nel 2019, Pensa è stato nominato tra i 100 pensatori più influenti del mondo. Allora, concludiamo questa ricerca dando la parola ai miei amici veneti, ai quali ho chiesto una videocartolina del Veneto. Ciao maestro Tommaso, per me questo è il paesaggio Veneto. è sicuramente casa, è sicuramente quelle radici che non si riescono a spaccare, nonostante che sia sempre in giro. E se dovessi rappresentarlo con un oggetto penso che sceglierebbe questa collana, che mi ha regalato il mio padre, che è un paesaggio di un paesaggio di un paesaggio e penso che mi ricorda che in qualunque posto io sia, quando torno a casa c'è qualcuno. Mi ricordo di aspettarmi, è bellissima, bellissima. Grazie, un bacio. Ciao maestro Tommaso, per me il Veneto è Villa Almerico Capra, detta La Rotonda. è l'opera più celebre tra le ville di Andrea Palladio. Si trova appena fuori Vicenza, come puoi vedere ha una cupola e quattro facciate, che mi devi credere, sono esattamente identiche. All'interno invece abbiamo un salone centrale che ha una forma rotonda da cui prende il nome la Villa Palladiana. All'esterno, come puoi vedere, è un bellissimo parco. Un salutone a tutti! Bene, grazie. Allora adesso chiedo aiuto a voi, bambini, insegnanti, genitori del Veneto. Sicuramente avrò tralasciato qualcosa, allora mandatemi. Dalla mail che trovate in descrizione, mandatemi le vostre videocartoline e magari potrò creare nuovi contenuti grazie ai vostri contributi. A me non resta altro che augurarvi buona ricerca. Ci vediamo alla prossima regione. Ciao!